Per non perdere gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse iscrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Allora, la liturgia, un termine molto usato nella mia terza stagione, è che si parte dall'inizio. Vuol dire che tu mi racconti di te, da quando nasci, in che anno. Ti farò domande molto profonde e molto dirette. Apro delle parentesi se sono curioso, se non capisco una cosa. Quindi sarò veramente un tuo ascoltatore, super attento a Canito e molto curioso. Bello. Partiamo dall'inizio. Partiamo dall'inizio. Quando nasci e dove? Io sono nato il 23 giugno 1972 in un paesino in provincia di Bergamo, dove io non sono mai stato in realtà. Mia madre era di un paese lì vicino e, diciamo, Calcinate si chiama il paese. Calcinate aveva l'ospedale con il reparto maternità. Quindi tutti quelli dalla zona andavano tutti a partorire lì. Dal dottor Figuera, pensa che meraviglia questa cosa. Quindi io sono nato in un paese dove poi non sono mai stato, ecco. Figlio unico? Ho una sorella più grande di tre anni. Attenzione, io ho una venuta al mondo fantastica, perché tra l'altro poi ho avuto occasione di parlare col dottor Figuera, perché è ancora vivo. Fantastico. Quando io stavo per nascere è arrivato un forte temporale ed è saltata la luce in tutto l'ospedale. Quindi io sono nato con l'occhio di bue, con una torcia puntata su, diciamo, su mia madre. Da supereroe. E io sono uscito e quando poi sono uscito tutto, io ho iniziato a piangere, è tornata la luce. Quindi io ho portato la luce. E in che famiglia cresci? Nel senso, la domanda è, a livello di amore, quanto tuo papà e tua mamma ti hanno dato un amore fisico, coccole, baci, quanto ti dicevano di amarti? Da quel punto di vista che infanzia hai vissuto? No, guarda, casa mia l'unico problema reale che è sempre esistito, che è proprio stato anche un trauma, è stato il problema economico. Io nasco e cresco in una famiglia con i soldi, mancano i soldi, quanti soldi abbiamo, dobbiamo dare i soldi, i soldi, i soldi. Questo tormento dei soldi e il pignoramento. Non so se tu sai cos'è il pignoramento, cioè vengono in casa delle persone che tu non conosci, soprattutto quando sei bambino e così, e si portano via della roba. Si portano via il televisore o, in quel caso mio padre aveva una panetteria, le macchine da lavoro, insomma, quello è stato, diciamo, il grande trauma. Per quanto riguarda invece gli affetti, sono degli affetti di quegli anni, secondo me, almeno io me la sono giustificata un po' così. Vuol dire più freddi? Mio padre, i miei non mi hanno mai sgridato, non mi hanno mai picchiato, non ho mai visto i miei genitori litigare, sai quelle famiglie tiepide, calme, così, con una sorta di rispetto molto profondo. Ma mio padre per dirmi ti voglio bene non è che mi diceva ti voglio bene, me l'ha detto quando ero già adulto, ma me l'ha detto dicendomi vengo a casa a montarti la mensola che ho preso il trapano. Oppure... Cioè, era un gesto d'affetto. Cioè, per dirmi ti voglio bene doveva fare una cosa, gente pratica, lavoratori, hanno sempre lavorato tanto, sia mio padre che mia madre. Poi mio padre introspettivo, uno che voleva stare da solo, si offendeva se gli facevi gli auguri di compleanno, no feste di Natale, no compleanno. Lavorava il sabato, lavorava la domenica. Cioè, mio padre si è rintanato nel lavoro e quindi non è che non avesse tempo per noi perché lavorava, ma lavorava perché non sapeva gestire, diciamo, le cose intime. E io sulla ricerca dell'approvazione del padre ho costruito poi la mia fortuna in realtà. Quindi poi adesso ho anche un'età in cui tutto ciò che mi ha creato dolore e che ho pensato fosse un problema, invece non lo distingo più il bene e il male, no? Perché il male è stato poi il mio bene e viceversa. Mia madre invece è solare. Mia madre è una donna solare che ancora adesso ha 80 anni, ancora vive, mio padre non c'è più. È una che se sale sull'autobus a Brescia parla con chi è sull'autobus. La conoscono tutti nel quartiere, parla anche con i sassi per dire. Però anche lì sì, mi abbraccia, però non è che mi diceva, ma adesso me lo dice sempre, ti voglio bene, ma quando ero bambino. Però io mi sono sentito amato, ecco, più da mia madre e da mio padre appunto questa figura che il suo amore era essere lì tutte le sere, per dirti. Però non c'era questa cosa dell'abbraccio. Invece poi negli ultimi anni mio padre è venuto a mancare tipo nove anni fa, più o meno. Pensa alla coincidenza. Io Anna, la madre dei miei figli, è andata in ospedale per partorire mio figlio e mio padre il giorno dopo, il giorno prima, è andato in ospedale e dopo non è più uscito. Quindi io poi sono diventato papà e ho perso il papà, è stato un periodo un po' così. Però mio padre gli ultimi anni, con una malattia degenerativa del cervello, quasi un Alzheimer, me l'ha ammorbidito al punto che mi ha detto, ti voglio bene. Tutte le cose che mi voleva dire me le ha poi detto perché era un po' uscito dai suoi blocchi, per assurdo. Con tua sorella che aveva tre anni in più, lei aveva un rapporto di complicità, stavate insieme, avete la stessa compagnia, vi facevate le coccole. C'era qualcuno nella tua infanzia soprattutto, perché è importante, no? La cosa fisica? I nonni? No, no, noi ci siamo voluti tutti bene. Però con distanza? Con una prossemica, sì, c'è sempre una distanza. Io tra l'altro sono sempre stato quello che sono adesso, cioè io sono sia quello che può stare sul palco davanti a 5.000 persone, quindi in classe ero quello che poteva tenere banco, però io giocavo anche da solo dietro il divano, magari per 3-4 ore mia madre non si occupava di me perché io ero là che giocavo e volevo stare da solo. E io quella caratteristica e poi è stata, ce l'ho ancora adesso, io oggi ho passato tutto il giorno a casa da solo perché ho bisogno di quella solitudine, ecco. Sì, anche io sono molto solitario, anzi apprezzo molto i miei momenti, guardando un po' di te, no? In questi giorni, sapendo di incontrarti, hai fatto tanti anni da single dopo e quindi mi chiedo spesso le radici delle cose e quindi questo non aver bisogno di dover magari coltivare dell'amore o dell'affetto ma viverli one shot, no? Da single dove dici, bella lì, mi godo la vita, volevo capire da dove provenisse perché il fatto di stare bene da single e magari dirsi in un'età giovane, ma quasi quasi non mi sposo mai perché faccio una vita da Dio, volevo capire che infanzia avevi vissuto da quel punto di vista. Beh, può darsi che magari è perché non ho avuto quella... In realtà io stavo bene da solo, da bambino e stavo bene con la mia famiglia, non erano invadenti, ecco. Quando ti dico la distanza, infatti io subisco... Ti lasciavano i tuoi spazi. Io subisco tanto l'invadenza, ecco. E quindi poi quando tu subisci l'invadenza non ti piacciono le sorprese, perché io non voglio che uno mi suoni all'improvviso al citofono, capito? O che ti faccio una festa sorpresa di compleanno, tutte queste robe qua dove non sei pronto, come ti capisco? No, no, no. Domani è il mio compleanno e infatti dribblerò tutti per non avere questa cosa. No, che paura, cioè io mi voglio gestire le mie cosine, le mie cose. Poi sono... mi dicono che è anche un po' dovuto al segno del cancro, non so se queste cose siano vere, però io amo proprio la casa, la canna, la cuccia. Io non mi sono mai comprato, quando poi ho avuto la fortuna di avere anche dei soldi per comprarmi la grande casa, io mi sono sempre comprato delle piccole stanze, però sparse nel mondo, no? E quindi mi sono fatto una casa fatta di micro appartamenti, uno a New York, adesso non ci sono più, però... Quello a New York sì, però ce l'avevo a Roma, a New York, a Parigi, così, ed erano tutti dei 35... Una stanza, no? A me basta stare in un posto un po' piccolo dove ho magari un giradischio, due libri, soprattutto le tazze per poter bere il caffè, così, una coperta. Io ero già vecchio da giovane, ecco, io sto lì dentro e io lì, è come se fossi sempre dietro quel divano dove giocavo da bambino, ecco. Per me quella è fondamentale. Io poi ho avuto una donna, ho fatto dei figli, adesso sono separato, vado molto d'accordo con la madre, però c'è stato un momento nella mia relazione di famiglia in cui faticavo a ritagliarmi questo momento di solitudine. E questo momento di solitudine mi... Cioè, se io non ho questo dialogo continuo con me stesso, io poi non funziono, ecco. Non funziono né come padre, né come compagno, né come cittadino, perdo completamente i... Mi saltano tutti i canoni, ecco. Comunque ho un buon rapporto con mia sorella, la sento tutti i giorni, ci sentiamo, ci vediamo, adesso fa anche la zia, quindi mi aiuta anche, però siamo due caratteri completamente diversi. Noi abbiamo reagito a quel trauma infantile in due modi diversi. Si dice che la ricerca d'amore, no, ci siano due grandi ceppi, no, quello che lo ottiene diventando il più bravo della classe o quello che lo ottiene diventando un tossicodipendente, mettiamo. Cioè, comunque una persona che ha sempre bisogno. Ribellandosi a quella cosa. Quindi o uno che attira l'amore perché ha bisogno, o uno che attira l'amore perché viene glorificato, diciamo, no. Io sono andato un po' più verso di là, cioè volevo farne qualcosa dalla mia vita, ecco. Come andavi a scuola dai 0 ai 18? Cioè, rimaniamo dai 0 ai 18. Ah, intanto sono andato a scuola dai 0 ai 14. Ok, quindi terza media. Ho finito con la terza media. Umanamente molto bene. E poi, cioè nel senso, quando arrivava un compagno nuovo, magari ad anno iniziato, i professori mi chiamavano e mi dicevano, Fabio, pensaci tu, perché io ero il cavallo di Troia, no? Ero il decoder. Il PR. Sì, no, riuscivo a introdurli dentro, perché comunque io ero anche bassino quando ero piccolo. Però riuscivo a gestire le relazioni, quella cosa lì così. E in quanto riguarda lo studio, io studiavo per non essere bocciato. Perché ero intelligente, diciamo, nel senso che apprendevo velocemente. Però non ho mai avuto un grande interesse per gli studi. Quali erano i tuoi interessi quando andavi alle medie? Giocare. No, io volevo solo giocare. Giocare, divertirmi, costruire delle cose, stare con i miei amici. E in più avevo una madre che andava ai colloqui e il professore gli dicevano, Fabio prende sei, ma è un ragazzo che potrebbe prendere anche otto, nove, no? Se si applicasse la famosa frase, no? È bravo ma non si impegna. E lei tornava a casa e mi diceva, ma a chi se ne importa? Ma adesso sei giovane, devi giocare, ti devi divertire, avrai tutto il tempo. Quindi non mi ha mai incentivato a essere il più bravo della classe, quindi io me la sono goduta. E poi ho avuto, sempre cronologicamente, non ti voglio rovinare il percorso, però poi ho avuto il grande incontro con la lettura, la letteratura, grazie all'incontro con una persona. E lì è stata la mia vera scuola e lì ho quasi doppiato i miei amici che andavano a scuola. Se sei diventato cintura nera 200 all'ora perché c'era la passione, l'ossessione che ti guidava, volevi sapere? Volevi formarti? Allora, pensa, l'altro giorno l'ho giusto scritto perché sto scrivendo il nuovo romanzo che è fondamentale, questa cosa che diciamo il mio grande traino nella vita, non sono mai state delle cose che si vedono. Il mio grande traino è proprio imparare, io proprio sono nel mio quando imparo una cosa, che sia una cosa manuale, io sono molto bravo anche nelle cose manuali perché il mio DNA familiare non è intellettuale ma è lavorativo. Quindi io so impastare ma so anche lavorare il legno, so fare un sacco di cose, posso fare l'impianto elettrico se ti serve e tutte cose così. Voglio imparare, non voglio sprecare il tempo, infatti io per esempio non so giocare con i giochini elettronici, non so giocare, non ho mai giocato alla Playstation, non perché abbia un giudizio negativo, perché io soffro del tempo che passa, dello sprecare il tempo. E quello per te è sinonimo di perdita di tempo. Esatto, la perdita di tempo, mi concedo ogni tanto delle cose, per esempio ultimamente vado allo stadio, mi guardo la partita e quella roba di così. Anche se c'è una grande filosofia dietro il calcio, c'è una grande filosofia dietro il calcio, però tendenzialmente io quando sono a casa in pausa pranzo, io mentre mangio io studio. Io studio nel senso che io odio essere intrattenuto, odio sedermi davanti alla televisione e c'è uno, se voglio ridere deve essere una cosa che mi fa ridere, ma che mi fa anche, cioè deve essere un intelligente, lui C.K. per esempio, Larry David e tutte queste cose. Se no io mi perdo e allora quando sono lì a pranzo vado su YouTube, mi metto una lezione di qualcosa, io mangio e imparo sempre. E questo è dovuto al fatto che non sendo andato a scuola ti senti sempre in difetto, anche se poi dopo io per esempio parlo inglese meglio dei miei amici laureati, però io mi sento sempre in difetto perché è la radice che ti frega, non è il risultato e quindi io sostituisco l'obbligo allo studiare col diritto al sapere. Quindi io quello che leggo e quello che imparo me lo ricordo per sempre e lo metto anche, come dire, i miei input diventano output. Cioè io leggo e poi scrivo un libro, o faccio un film, o faccio una cosa, cioè lo metto in pratica. Non ho mai studiato per superare un esame, per prendere una laurea e poi vedevo i miei amici che studiavano gli ultimi due giorni con le moche da sei. L'obiettivo era superare l'esame, invece io mi interesso di un argomento e lo approfondisco e quindi questo... Se lo scegli tu perché tu sei ribella all'obbligo. Sì, sì, sì. È un po' come l'invadenza dell'essere umano, cioè tu vuoi scegliere i tuoi spazi. Io voglio scegliere le mie cose perché se non c'è entusiasmo non c'è memoria per me, non c'è coinvolgimento. Tra l'altro, lo dico sempre anche in radio, la parola entusiasmo è una parola magica perché entusiasmo significa abitati da Dio, no? In l'etimologia della parola. Quindi quando io sto in entusiasmo e quindi sono abitato da Dio, quindi io sono con la mia fiamma divina accesa, quello è il mio posto. Tutto il resto è fatica. Prima mi hai fatto un accenno dove ti ho chiesto dell'amore. Sì. E sei subito partito sui problemi del denaro che sono pregnanti nel tuo DNA perché si vede che ti hanno, come dire, accompagnato per molti anni della tua infanzia. Mi racconti un momento indelebile da quel punto di vista che hai vissuto, che ti ha forse creato un trauma quando eri piccolo. Sui soldi? Sui soldi ne abbiamo tanti, possiamo fare una punta da parte. No, ma facciamone uno. Allora ti dico, otto anni, comunione, alcuni parenti mi ditevano la busta, a casa mia non potevano entrare i soldi perché come entravano, e venne questo amico di mio padre che era un direttore di banca e si prese direttamente il salvadanaio, che in realtà era una vaschetta, una scatoletta con la chiave. Si è proprio preso la scatola con dentro i miei soldi della comunione. E come hai visto tuo padre reagire in quel momento? No, mio padre, poverino, che doveva fare? Cioè subiva? Sì, mi ha detto li vanno a mettere in banca perché mettendoli in banca con gli interessi un giorno te ne danno di più e io ci ho creduto al momento, però quel gesto lì io non li volevo lasciare. Però io ho letto di tuo papà che era un grande lavoratore. Sì, tantissimo. Cioè si spaccava la schiena e si svegliava alle due del mattino, faceva il panettiere. Sì, io devo a questa cosa, a parte dei risultati che ho ottenuto, non un talento, ma a un'attitudine, a un metodo di lavoro. Mio padre lavorava giorno e notte. E come mai si ritrovava in quelle situazioni? Beh, secondo me lui aveva, questo l'ho elaborato da grande poi, lui aveva i suoi di traumi emotivi e quella cosa lì del denaro era, non era una malgestione dei soldi, era una malgestione emotiva legata al rapporto con la sua famiglia e così. Me lo spieghi meglio? Sì, te lo spiego. No, è solo per capirlo e farmi capire che ci ascolta perché magari si identifica. No, perché io ce l'ho ben chiaro, però veramente dovremmo fare un'ora di spiegazione. Ma mio padre è nato intanto che aveva dei difetti fisici, è nato, ai tempi si diceva storpio, nel senso aveva un problema delle gambe, delle cose. E quindi ha conosciuto la vergogna data, la vergogna data ai genitori, cioè la vergogna data a chi ti sta intorno, nel senso che non è solo la vergogna tua. E lui si sentiva in colpa per l'imbarazzo che provocava gli altri? Sì, sì, sicuro, sicuramente verso suo padre, anzi ne sono certo perché l'ho vista quella scena. Te l'ha mai raccontato? No, no, l'ho vista quando era già morto mio padre, io l'ho vista nel senso, faccio anche delle pratiche con degli sciamani e ho visto quella scena, come dire, una visualizzazione. E quindi questa vergogna se l'ha portata dietro tutta la vita. Difatti mio padre, quando poi io ho avuto fortuna e ho risolto il premio dei soldi, mio padre non è che non avesse più problemi, ha iniziato ad avere problemi all'anca, poi abbiamo risolto l'anca, ha avuto problemi al ginocchio. Cioè quello era il suo modo svivente, cioè il suo bisogno, il suo non essere, come dire, all'altezza della vita o dell'amore, era il suo... Tu di base non sentiva l'altezza, ma non capisco il rapporto tra un suo, come dire, handicap fisico, o perlomeno che lui viveva mentalmente, rispetto agli altri, quindi non tanto il disagio su di sé, ma su quello che provocava a terzi. Che impatto può avere questa cosa sul denaro? Cioè non riesco a capire la relazione? È che hai sempre bisogno tutta la vita, perché comunque il denaro è il successo e il successo è essere visto dal padre, no? E lui quello non pensava di non meritarselo e quindi stava sempre nella fatica, perché pensava che fosse probabilmente, non penso che lo pensasse inconsciamente, che fosse il prezzo giusto da pagare, insomma. Quindi si puniva in qualche modo, no? È totalmente incapace di godere, ecco, mettiamola così. Io non ho una foto con i miei genitori in vacanza, perché mio padre non ci ha mai portato in vacanza una volta, perché le vacanze per lui erano una cosa... Io passavo davanti ai bar con lui da piccolo e lui criticava chi stava al bar, perché non era a lavorare. Non c'era un festeggiamento in casa mia, non c'era il Natale, non c'erano i compleanni, non c'era gente in casa che veniva a cena, non c'era la gioia di vivere, ecco, mettiamola così. Io ci ho scritto un libro sulla mancanza della gioia di vivere, che è fondamentale, cosa che io invece sto cercando di fare con i miei figli, ecco. Mi riconosco molto in tuo padre, nel senso in dei momenti cupi dove anche io forse compensavo dei disagi e mi spaccavo la schiena di lavoro, cioè se non c'era un problema me lo inventavo quasi. Mia moglie, molto solare come tua madre, non mi ha permesso di condurla lei in quella mia vita lì e lei che ha contaminato me nella sua e quindi mi ha insegnato a sorridere, mi ha insegnato a essere più gradevole, più simpatico. Come fa tua madre? Ah, mia madre non aveva nessun tipo di... E però come faceva a vivere in quel contesto? No, ma mia madre... Faceva la sua vita a parte? No, faceva parte della... Se ne fregava? No, ma mia madre è una specie di folletto, mia madre non è... No, il folletto è quello... Chiaro, chiaro. No, mia madre vive in una bolla sua, vi esce da una famiglia dove l'hanno adorata, dove mia madre è simpatica a tutti in un secondo e... Mia mamma entra nell'acqua e non si bagna, per dirti. Niente la tange, diciamo, esternamente. Lei vive nella sua gioia. Entriamo nel mondo del lavoro. Tu smetti di andare a scuola dopo la terza media e quindi cominci a lavorare, immagino. Come panettiere con mio padre, sì. Fino ai 21. Fino ai 21. Sì, più o meno. E cosa ti ha insegnato tuo padre in quegli anni? Tutto. Per esempio? Tutto quello che non sapevo al momento. Sai come... Come Karate Kid che non sapeva, quando mette la cera togli la cera. No, mio padre mi ha insegnato il mestiere, il rispetto, la disciplina. Esatto, volevo sapere che valori ti ha insegnato attraverso il lavoro. Beh, l'ossessione è stata la chiave del... Io non so se dire successo, però comunque io ho realizzato i miei sogni con l'ossessione. No, sai quando si dice basta avere la passione, ma la passione non fa niente. La passione che ti deve portare all'ossessione compulsiva? La passione è diventi amateur, diventi amatoriale. Tu hai la passione del calcio e vai con i tuoi amici a giocare a calcio. Ma se vuoi giocare veramente a calcio e arrivare in giambio devi essere ossessivo. Vuol dire che tu torni a casa da scuola, prendi la palla e continui a tirare a calci la palla. Io quando sono venuto a vivere a Milano, senza titoli di studio, non sapevo suonare uno strumento, non sapevo le lì, cioè non avevo niente in mano. Se non quella forma mentis lì e credo che chi ha lavorato con me in quegli anni, anzi me l'hanno anche detto, io avevo quella cosa lì, cioè a me nessuno mi poteva distrarre. Ero anche uno che non si fidanzava per quello, nel senso che io ho sempre pensato che l'amore fosse un intralcio. Per avere la gestione del tempo. Forse è stato un intralcio, che le battaglie a cavallo non si fanno con una donna abbracciata dietro, ma prima fai le tue battaglie come Ulisse e poi torni da Penelope, capito? Ma non puoi portartela in guerra, io ero in guerra comunque. E quando lavoravi con tuo papà, chi sognavi di diventare? Io facevo le radiocronache delle mie vite, quando facevo il pane mio padre. Cioè nel senso che te le facevi a lui? Attenzione, perché qui devo fare un passaggio, se no avete un'immagine un po' sbagliata di mio padre. Mio padre era uno che rideva, mio padre era l'uomo più buono dell'universo, veramente di una bontà incredibile, ma era uno che rideva, ma si vergognava. Quindi io lo facevo ridere, poi lui si vergognava di aver riso, perché, tornando al discorso di prima, è come se si fosse permesso un momento di gioia, come se non se la meritasse. Quindi lui rideva e poi c'era subito il pudore. E quindi io mi divertivo e credo che quella cosa lì, la gioia che mi dava far ridere mio papà per tre secondi, è la cosa su cui poi ho investito, perché io non ho mai provato un potere così forte nella vita come quando riuscivo a far ridere mio papà, come quando riuscivo ad alleggerirlo dai suoi dolori. Poi adesso andiamo a fare il percorso insieme, ma quando sei cresciuto e quindi hai avuto la consapevolezza di quello che mi racconti oggi, non l'hai avuto adesso, l'hai avuto molti anni fa, non hai provato a far uscire da quella corazza? No, ti dicevo, gli ultimi anni sono stati molto più facili. Però quanti anni avevi? Quando mio padre è morto avevo 41 anni, 42. Infatti io dico sempre, mi spiace, perché è adesso che negli ultimi 5-6 anni che sarei stato veramente d'aiuto a mio padre, perché poi in quanto figlio gli anni sono stati nella mia testa che mi sarei meritato più attenzione da parte di mio padre, invece poi ho maturato il fatto che io potevo fare molto di più per lui. Ero troppo giovane per vedere delle cose, poi io sono dovuto diventare padre per capire mio padre, perché io nel rapporto con i miei figli capisco delle cose di mio padre adesso e purtroppo non c'è, ma c'è in un altro modo, quindi io me la sono riparata e me la riparo dentro di me questa cosa. Ti manca? Beh sì, mi mancano questi confronti che io faccio, ma che se fossero fisici qua sarebbero molto più efficaci, diciamo. Facciamo un passo indietro. Quindi tutti sappiamo che tu tendenzialmente fai una carriera artistica ad un certo punto. Quando avviene lo switch? Cioè tu lavori con tuo papà fino all'età di 21 anni, fai la radiocronaca e lo fai ridere e sei felice, ricordi questi momenti con... I miei cugini da bambino mi chiamavano Jerry Lewis, io comunque facevo ridere. Era un mio mito quando ero ragazzino io. Mi chiamavano Jerry Lewis perché io comunque in compagnia facevo ridere, anche a scuola come dicevo prima facevo ridere, cioè comunque era abbastanza naturale per me fare il buffone, diciamo. Ho iniziato con mio padre, poi ho capito che non volevo fare quella vita soprattutto, perché la fatica non mi ha mai spaventato, ma la fatica senza risultato, avevo detto a mio padre, comunque faticare così senza risultati non ha senso. Qual è il risultato che non vede via? Cioè che non si usciva da... Aveva dei debiti mio padre, che gli interessi erano ciò che noi guadagnavamo, quindi praticamente tu sfamavi un mostro che però non diminuiva mai, no? E quindi con la mia poca matematica ho cercato di spiegare a mio padre, ma lui andava avanti. Ti pagava? Sì, 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 la prima... Quello che era possibile darci. Sì, più che altro, sai, io ho sempre avuto questa regola proprio per non fare la fine di mio padre, qualsiasi cifra avessi ricevuto, io metà la mettevo via, sempre, quindi i primi mesi erano 10.000 lire a settimana, io 5 li mettevo via e 5 li spendevo. Te l'ha insegnato lui o quello che hai vissuto, tra me ti ha fatto così tanta paura per non fare quella fine? Però poi cosa facevo? Siamo passati a 25.000 lire a settimana, quindi 100.000 lire al mese, quindi 50.000. Il problema è che dopo un mese o due, quei risparmi lì dovevo dargli a mio padre, perché a lui servivano per pagare i debiti, quindi comunque io mettevo via, quindi c'era un senso di ingiustizia molto forte, ecco. E quando è che avviene il round successivo? Poi io da panettiere ho iniziato a frequentare una discoteca, cioè andavo in discoteca come tutti i ragazzi. A che età? 18, quell'età lì. Il proprietario della discoteca vedeva che avevo... Ti ricordi il nome del locale? Dunque, quegli anni lì... Quali il nome del professore ti ha fatto nascere? Sì, no, perché quella discoteca ogni anno cambiava nome, per cui poteva essere l'Altaluna, poi è diventato Miró, Lizzy Rose, mettiamo il Miró e il proprietario mi vedeva che avevo sempre un tornero di persone attorno e quindi mi dava i drinks gratis, i free drinks. Poi metto perché non fai il PR per noi, ho iniziato a fare il PR, poi hanno aperto un locale vicino a casa mia che faceva karaoke, ai tempi di Fiorello, che andava molto il karaoke, io cantavo bene, ho iniziato a fare il karaoke lì, e l'ho fatto diventare un piano bar, cioè cantavo solo io praticamente, e poi da lì una casa discografica di Brescia mi ha chiesto se volevo prestarla voce per una pubblicità, poi gli ero piaciuto, mi hanno fatto scrivere delle canzoni, ho scritto la canzone Volo, perché io mi chiamo Bonetti di cognome, e quindi... A che età fai la canzone Volo? Secondo me... 21... Prima canzone? 21-22, sì, 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 sì. Claudio Cecchetto mette quel disco a Radio Capital qui a Milano, qua al forum... Cioè, come fa a mettere quel disco? Perché ho scritto la canzone Volo e la casa discografica di Brescia l'ha stampata, e gliel'ha mandata. Quindi direttamente la casa discografica ha chiesto alla radio di farlo? Sì, ha mandato a tutte le radio, sai come fanno? Mandavano i dischi, e poi Cecchetto la mette in onda perché trova che sia una bella canzone. Dopo un mese mi portano qui a Milano per ringraziare Claudio Cecchetto, che comunque... Quindi vai a Milano solo per ringraziarlo? Solo per ringraziarlo, e Claudio Cecchetto parliamo, io lo ringrazio ovviamente con il Centro Bresciano un po', i capperi lunghi... Ti ci porta quello di... Dalla casa discografica di Brescia. Media... La Media Record di Bortolotti, sì. Bortolotti. Vengo e ringrazio Claudio Cecchetto, e Claudio Cecchetto, dopo un po' che parliamo così nel corridoio di Radio Capita, mi dice ma tu non hai mai fatto la radio? Io ho detto ma io non ho mai fatto niente. No, secondo me tu dovresti fare la radio. Dai, vieni qua, da lunedì vieni. Io ho detto io non l'ho mai fatto, ma ti insegno io. Quindi il lunedì mi sono fatto prestare la macchina da mia sorella. Che lui non ti manda in onda subito prima ti fa provare? No, mi fa fare una settimana o due. Non so se tu lo sai la grande teoria di Claudio Cecchetto che ha fatto fare a tutti, a me, a Fiorello, a Giovannotti. Cioè la pianta grassa, lui diceva, no? Cioè vieni qui e stai qui, non devi fare niente, però devi respirare l'ambiente. Quindi io per una settimana, tutte le mattine da Brescia, venivo qui ad Assago, al Forum, dove c'era Radio Capita, e poi prima di andare via la sera facevo mezz'oretta di programma registrato sul nastro e lo davo e poi tornavo. E niente, il venerdì stavo tornando a Brescia in macchina, c'erano i cellulari 0-3-3-0 che costava tipo 6 milioni di dollari al minuto se rispondevi prima delle 8 di sera. Ed era la Graziella, la Graziella che adesso è una manager, la gente. La socia di Franchino. Esatto, esatto. E mi disse, ti passo Claudio, e Claudio mi disse lunedì sei in diretta, in onda. Quindi io non ho dormito ovviamente tutto il weekend, come tutti, mi sono scritto tutto quello che dovevo dire ed io ho iniziato con la radio. E com'è stato la prima volta? Ti sei cagato sotto? Sì. Ti sentivi sicuro di te? No, no, mi ero scritto tutto, anche le pause. Dopo metterlo in atto, magari è diverso. Agitatissimo, no, no, agitatissimo, spaventato, non era il mio mestiere, non era il mio mondo, non era la mia città, ero proprio perso, non avevo punti di riferimento, non c'erano nemmeno quelli della casa discografica che sai, ti porti un amico, lo guardi, ero proprio da solo, venivo con la macchina di mia sorella, perché io non avevo la macchina e mia sorella sì. Cioè a me già venire a Milano, mi ricordo che per me venire a Milano era molto di più di quando vado adesso a New York, per dirti, a New York ci potrei andare in giornata, sono sereno. Come glielo racconti ai tuoi la sera in cui torni a casa? Le dici ce l'ho fatta? Ai miei genitori? C'è stato un altro momento molto difficile diciamo della mia vita, perché mio padre ovviamente quando io ero già andato via dal panificio, perché io appena poi ho iniziato a fare il PR. Guadagnavi, ti mantenevi? Col karaoke, il PR, facevo feste, insomma mi inventavo sempre dei lavori, tu lo sai? Che io non sapevo suonare. Suonare vuol dire fare il DJ? Esatto, no non sapevo suonare più le cose, quindi facevo il karaoke perché ovviamente il karaoke c'erano le basi. Ok. Siccome quel locali dove facevo le, tre serate a settimana si era riempito, altri bar mi chiedevano di poter andare a fare le altre serate e quindi io mi ero comprato una tastiera, non avevano il karaoke, mi ero comprato una tastiera di quella con i dischetti e facevo finta di suonare, cioè la gente era convinta che io suonassi il pianoforte, quindi veniva una famiglia dedica e richiesta, mi puoi fare? Ma se non ce l'avevo nel dischetto allora mi inventavo te la faccio dopo perché ce ne sono già tre o quattro in coda insomma e quella roba è così, quindi io me ne ero già andato e mio padre non l'ha vissuta bene perché mi ha fatto sentire, cioè mi disse hai abbandonato la nave, quindi io ho tradito il padre. Eri l'unico che lavorava con tuo papà? Sì, sì, c'era anche poi suo fratello dopo un po' e anche altri operai così, ma io ho vissuto con l'agonia di avere tradito il padre per un bel po' di anni. Cioè hai vissuto i sensi di colpa? Non l'ha fatto, devo dirti, non l'ha fatto con cattivelle. L'hai più vissuta tu così? L'ha fatto con ignoranza, l'ha fatto, nel senso non si è reso conto che il peso delle sue parole in quanto proprio sempre il discorso che uno non si dà importanza nella vita, non dà importanza alle cose che dice, dice tanto sono io a dirlo che non sono nessuno. Invece per un figlio la parola del padre vale, sai che i pesi sono, il peso specifico è diverso, tu hai un padre e poi digli tutto quello che vuoi, ma lui basta che muove il labbro o che si gira quando dice una cosa e ti stende. Quindi lui mi diceva hai abbandonato la nave e tutta una serie di cose. Poi io ho iniziato a fare anche un po' di soldi, cercavo di aiutarlo, lui non li voleva, era proprio, è stato due. Quasi offeso. È stato, devo dire, più dura forse questa della questione dei soldi. Quando lui ti diceva queste cose c'era tua madre presente? No, mia madre era presente ma senza grado di consapevolezza. Nella sua bolla. Quando io prima di andare via dicevo a mio padre io così non vado avanti me ne vado, no? Mio padre diceva in dialetto, poi si parlava in dialetto, nessuno qui è legato alla gamba del tavolo. Come si dice in dialetto? Che nessuno è legato alla gamba del tavolo. Come dire, nessuno è legato quindi tu sei libero di andare. Però in realtà è un passivo-aggressive, quindi io rimanevo, cioè ci ho messo tanti anni per non dare le colpe ma dare responsabilità perché è tutta colpa di mio padre a non è colpa di mio padre. C'è una via di mezzo che è responsabilità di mio padre. Anche perché io credo alle linee diciamo generazionali, quindi tutto ciò che non ha elaborato mio padre lo devo elaborare io per non passarlo ai miei figli. Quindi mio padre è anche responsabile di non aver avuto quel grado di coscienza o di consapevolezza di aver lavorato su alcune cose emotive che poi è stato un carico per me molto pesante. Per capirlo hai provato a immedesimarti nella sua infanzia e capire quello che suo nonno gli ha impartito come modalità di educazione? Sì, sì, io sono arrivato a quello lì con, ti ripeto, io diciamo medito da un po' di anni poi frequento anche diciamo degli sciamani in Brasile, in Messico, ho fatto tante cose diciamo alla ricerca di introspettive e sono arrivato a delle conclusioni che sono lì nell'inconscio e ho capito però l'ho dovuto responsabilizzare a un certo punto non l'ho potuto salvare del tutto perché Sì, beh all'inizio il processo è dargli completamente la colpa per poi perdonare quindi pulisci dopo però all'inizio sfoghi se stai sempre a metà Sì, io con lui ho fatto fatica e c'erano degli scontri però ho fatto un po' fatica e poi e poi il bello di perdonare non è tanto come un gesto d'amore è che se tu perdoni e lo dice un conto ma se tu perdoni veramente sei libero perché poi alla fine io la cosa affascinante del perdono non è che io ti perdono e sono buono io ti perdono perché se ti perdono veramente io sono libero ho tolto un peso dalla mia parte emotiva io sono 50 anni potevo anche svegliarmi un po' prima però insomma diciamo che sono riuscito a liberarmi da questa cosa ecco emanciparmi per arrivare ad oggi da quella puntata raccontami tutto che succede? allora inizio a fare la radio con questo accento bresciano e quindi Cecchetto mette nella sigla direttamente da Brescia ce lo dichiara subito ok così almeno esatto e mi presenta Amadeus perché andava in onda prima di me Amadeus facciamo la prima puntata e poi ne faccio altre dopodiché dopo un anno e mezzo di che anno parliamo più o meno? 94 95 fai conto che a Radio Capita con Cecchetto comunque passavano giovanotti andavi a Riccione e vedevi Fiorello e c'era Amadeus c'era Max Pezzali io ero nell'Olimpo praticamente erano tutti al top in quel momento quindi poi quando tornavo a Brescia nel weekend comunque ero quello che stava a Milano con quelli famosi cioè come dire ce l'avevo fatta mettiamola così ero entrato ero entrato esatto ero entrato dentro Troia dopo un anno e mezzo Claudio Cecchetto se ne va senza dire niente a nessuno che lui aveva già venduto DJ DJ al Gruppo Espresso vende anche Radio Capital noi non ci dice niente e lunedì mattina noi arriviamo e l'ufficio di Claudio è vuoto non c'è la scrivania non c'è niente non viene anche detto ragazzi niente Claudio se n'è andato e c'è questo signore che è l'amministratore delegato e questo signore ci dice ragazzi questo Radio Capital adesso è del Gruppo Espresso non è più di Claudio Cecchetto la faremo diventare young adult cominciamo a parlare in un linguaggio che ovviamente con Claudio era l'opposto young adult giornalisti così più parla e più capisco che io non c'entro più niente di dentro avevo ancora un contratto di un anno quanto ti danno quando cominci a lavorare lì il tuo primo contratto da artista di soldi? sì credo non ho idea ma ti mantenevi? sì sì poi Claudio ci aveva preso un appartamento dove stavamo dentro tutti noi DJ sì me lo raccontava Baldini che è una delle puntate One More Time io dormivo lì con Nicky che è ancora radio DJ per un po' c'è stato Marco Mazzoli che adesso sta a 105 e Lorenzini Amonti che adesso però più o meno quanti soldi guadagnavi? non ho la più pallida idea non te lo ricordi proprio? no c'è il tuo primo contratto da artista? come se fossero stati mille euro mille, mille, cinque, cento euro credo non lo so ok pensa che nonostante io venga da un trauma economico io non ho proprio interesse ai soldi proprio perché probabilmente non l'ho risolta quella cosa non ho interesse né a spenderli né a guadagnarli cioè io non mi sono mai messo lì con l'idea però li amministri con lucidità? non li amministro nemmeno io nel senso che io per quello che mi piace comprare so che ce li ho nel senso che se devo entrare in un negozio di dischi o di abbigliamento non chiedo neanche quanto costa per dirti però non ho desideri costosi ecco li spendo viaggiando magari vado in business invece che in economy però non ho cose di barche o ville o cose quindi se ne va cecchetto se ne va cecchetto la persona che comincia a parlare un linguaggio che non ti convince comincia a farle capire che appena mi fosse scaduto il contratto cioè non vedevano l'ora di mandarmi via allora io ho finito questa riunione eravamo tutti seduti per terra perché non c'erano più neanche le sedie seduti per terra tutti DJ della radio tutti DJ della radio esatto io torno in ufficio da questo signor Varvello si chiamava allora a me di stare qua un anno e mezzo con la scadenza non mi sembra una cosa intelligente e nemmeno vuoi avermi qua in mezzo ai piedi allora facciamo così io per contratto loro non mi potevano licenziare un anno e mezzo ho detto pagatemi tre mesi perché mi servono per trovare un altro lavoro e se voi mi pagate questi tre mesi io firmo che me ne vado e siamo tutti contenti loro erano felicissimi di fare questa operazione e io me ne sono andato a Londra a fare il lavapiatti perché volevo imparare l'inglese perché non avevi soldi poca roba no avevi risparmiato poca roba no ma perché risparmiare no non c'erano quelli che avevo erano quelli per campare e quindi vado a Londra a fare il lavapiatti perché volevo imparare l'inglese ma nel frattempo di quel bienio più o meno che fai in radio fai ancora il cantante no 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 smetto di fare il cantante perché tu ti chiami perché ti sei dimenticato volo per la canzone volo bravo quindi da Fabio Bonetti lui dice da oggi sei Fabio Volo sì e quindi smetti di fare canzoni però io ho saputo che a un certo punto dei tuoi pezzi al plurale forse ho letto male sono diventati noti in Grecia in Grecia quando io vado a fare il lavapiatti a Londra e lì ero di nuovo avevo anzi ti posso dire era peggio perché avevo visto la terra promessa ero andato nell'Olimpo ho visto gli dei no quindi tutto c'era la possibilità di fare i soldi la popolarità le donne tutto quello che un ragazzo di quell'età può ambire un po' così vestiti gratis andare a Riccione a fare la stagione tutto pagato cioè figurati io non andavo in vacanza non avevo i soldi mi ritrovavo al grande hotel di Riccione tutto pagato con le ragazze che volevano sedere in camera cioè era una follia capito e da lì a lavare i piatti e poi io tra l'altro nella cucina dove lavoravo non parlavo inglese non potevo fare il cameriere ero proprio il livello uno della cucina quindi pelavo le patate le carote uccidevo i topi però essendo una sorta di delfino se vuoi di cecchetto che era il deus ex machina di quegli anni in assoluto avrei avuto altre proposte altre possibilità in Italia perché scegli di azzerare tutto e di andare in un altro paese perché avevo bisogno di avere qualcosa in mano e capivo che secondo me l'inglese era la chiave del successo non so perché mi era venuta questa cosa però lasciando tutto quello che avevi cominciato a sì forse anche la delusione poi dove sarei dovuto andare magari in un'altra radio però per fare una scelta così drastica è successo qualcosa che non mi stai raccontando che abbia memoria no sinceramente no no cioè azzeri tutto tu hai seminato per due anni relazioni di tutti i tipi via lavo piatti a nienti tutto basta sì io ho quest'immagine di questo ragazzo africano con cui lavoravo in cucina cioè tu dici vado ad imparare l'inglese e me ne vado e me ne vado sì e sono andato mi sono portato anche la chitarra ma non sapevo suonare la chitarra avevo proprio un immaginario di uno che se ne va con la chitarra me l'avevo portata la chitarra ma non sapevo suonare e come si fa quando si arriva a Londra a trovare un lavoro cioè tu arrivi a Londra allora sono atterrato allora aspetta perché io prima che mi chiamassero in questa casa discografica di Brescia sì avevo chiesto a una cliente del mio negozio che aveva un amico a Los Angeles il tuo negozio è panetteria panetteria adesso mi hai fatto venire in mente questo passaggio aveva un amico che aveva un ristorante a Los Angeles e quindi io chiesi io come quello sapevo fare cucinare comunque c'è l'idea era di andare a Los Angeles e mi poteva dare un lavoro perché volevo imparare fare l'esperienza all'est di imparare l'inglese stavo per andare invece poi ho iniziato a fare il cantante quindi probabilmente quando poi è finito il mondo mi sono ritrovato e invece di andare a Los Angeles ho detto vado a Londra dai che è più vicino il ristorante si chiamava Drum and Monkeys bellissimo e io con questo ragazzo africano a pelare le patate a fare le cose così ma un giorno non c'erano i cellulari i tempi in pausa pranzo chiamo mia mamma per salutare sapere tutto e mi dice guarda che ti vogliono quelli della casa discografica media esatto media record quindi io metto giù chiamo la casa discografica e mi dicono guarda che siamo secondi in classifica in Grecia per cui dobbiamo andare a fare il tour ma di un pezzo fatto due anni prima di un pezzo fatto due anni prima sì e quindi io torno al Drum and Monkeys dopo la pausa sembra quasi la storia vabbè hai visto Sugar Man Sugar Man esatto pazzesco incredibile quindi io torno dalla pausa pranzo e dico ragazzi scusate devo andare in Grecia in tour perché ho la canzone che mi è successa quindi per un pazzo dopo quanto tempo che eri a Londra? due mesi dopo circa due mesi e sono andato in Grecia in tour a far finta di essere un cantante famoso quante date? no non ho fatto il tour dove cantavo facevo il tour radiofonico per promuovere il pezzo e televisivo sì sono andato in un paio di programmi televisivi uno una specie di caramba che è sorpresa però in greco e mentre dietro piangevano queste anziani che non si vedevano a trent'anni io cantavo il mio pezzo davanti e poi e questo ti ha permesso di generare del denaro c'è la casa discografica? no no zero denaro apri quella parentesi e poi torni a Londra? torno no 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 torno a questo punto torno a casa cioè torno a Milano perché molli dopo due mesi l'obiettivo l'inglese il cameriere perché dici grazie alla canzone forse c'è la mia carriera? no forse mi ero stufato di stare in giro non lo so sinceramente non lo so tante cose le ho fatte non ho coscienza sono tornato perché una ragazza mi chiamò una ragazza che avevo conosciuto quando facevo la radio perché lavorava a Match Music Fanny Fanny me lo ricordo che era la MTV di noi italiani a Verona e mi disse dai ma vieni qua che ci penso io e quindi sono andato a vivere a Verona ho fatto il provino mi hanno preso e ho iniziato con Match Music ecco era prima di MTV Match Music o dopo? sì era prima prima quindi sei stato veramente uno dei primi VJ sì Bossari è stato il primo di noi ad andare a MTV e io sognavo di andare a MTV ovviamente come tutti quelli della mia generazione Andrea Pezzi Bossari io niente non riuscivo a ingranare per arrivare lì perché comunque non ce la facevo e invece poi da lì ho fatto le Iene e poi dopo ho fatto MTV pensate allora aspetta Match Music fai il VJ quindi è il tuo nuovo lavoro sì quanti soldi ti danno? non mi dire che non ti ricordi non mi ricordo neanche lì però mi ricordo di essere andato però dal capo e io volevo i soldi degli altri VJ quelli che erano già i danni tipo i Zabì così e lui mi disse ma è appena arrivato e io mi ricordo che gli dissi ma io sono il più bravo di tutti questo me lo devi ancora dimostrare cioè malgrado il fatto che tu non avessi una lira che fossi a Londra e tu sei partito bello aggressive convinto senza senso di perdita esatto avevo la Fiat 500 e partivo da Brescia con la Fiat 500 mi ricordo ma a volte facevo anche Milano Verona con quella macchinina lì bellissima però facendo il VJ Match Music si facciano le serate in discoteca sì dopo gli è stata un'altra ondata di meraviglia vai raccontami sì perché era bello andavi in discoteca facevi la stagione a Riccione eravamo eravamo una banda di ragazzi dei 23, 24, 25 anni con devi immaginarti che in quegli anni non c'erano queste cose digitali delle telecamerine delle cose del computer così se tu volevi fare un video montarlo e così ci voleva di macchinare con 100 milioni capito? di lire e quindi noi eravamo dei ragazzini che avevano però stavamo lì le notti a montare le cose erano proprio abbandonati come dei ragazzi in una palestra quindi c'erano i divani fumavi le canne ti buttavi sul divano uno ordinava la pizza andavi lì limonavi con una poi andavi il camper andavi a fare un giro col camper scoppavi lì cioè erano degli anni meravigliosi che sì poi mi si sono ripresentati anche con MTV però io avevo già fatto quelli lì poi uno adesso è un regista importante alla Rai l'altro è comunque è stata una palestra bellissima quanto tempo Match Music? Match Music è stato credo un paio d'anni poi dopo te li danni i soldi dei grandi VJ o no? a MTV forse no 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 Match Music dove te hai detto dimostra alla fine le hai convinto l'ho convinto l'ho convinto perché io avevo la 500 nel parcheggio e lui parlava sempre questo capo parlava sempre siamo una grande famiglia siamo una grande famiglia e io allora dalle l'ho su ufficio gli ho detto puoi venire un attimo alla finezza gli ho detto quella BMW là è la tua macchina gli ho detto questa 500 è la mia quindi se siamo una grande famiglia dobbiamo che ci troviamo un punto di incontro insomma comunque io ero simpatico a questo ragazzo e mi ha fatto fare questa esperienza e poi da lì loro un anno hanno avuto una collaborazione con Radio Rai quindi io ho iniziato a fare Radio Rai con Andrea Perizzari e un giorno a Radio Rai attraverso Match Music attraverso Match Music io però a Match Music facevo un programma che si chiamava Svegliati in diretta la mattina c'erano 2000 decoder in quel periodo era il nuovo Sky Studio Plus tra questi 2000 che avevano il decoder in tutta Italia c'era Fiorello e quindi un giorno Fiorello va a cena con Giorgio Gori direttore di Italia 1 Giorgio Gori dice sto cercando i nuovi presentatori delle iene ma non so bene chi prendere prendono un po' di iene dell'anno prima e Fiorello dice ma questi due ragazzi che sono nuovi io li vedo la mattina perché Fiorello ci chiamava non dicendo di essere Fiorello lui si divertiva a fare le imitazioni da casa quindi Cavi si fingeva un comune mortale solo l'autista di Califano e faceva l'imitazione dell'autista di Califano che parlava come Califano si inventava e io non lo dicevo mai che era Fiorello ci piaceva questo gioco così e quindi Giorgio Gori un giorno nella segreteria di Radio Rai dove noi facevamo il programma c'era Cavi siamo la redazione delle iene un programma di Taglia 1 è andato in onda solo un anno non vorremmo provinarvi per io nel frattempo mi ero rotto una gamba quindi sono andato col gesso ma non so quanto posso dire perché anche lì ci sarebbe un'altra storia stupenda no no racconta tutto quello che vuoi io sono a Riccione quando io ti faccio delle domande perché lo faccio spesso sui soldi per far capire ti infastidisce quando ti faccio questa domanda nel senso la tua amnesia è reale o non vuoi che ti faccia domande sui soldi no no è amnesia reale però per me avere i soldi per non avere i debiti mi sembra di essere già ricco cioè avere i soldi per non avere problemi io mi bastava non avere quel pensiero lì sempre modesto diciamo dopo i soldi se vuoi dopo sono arrivati quando sono arrivati te lo dico per adesso non sono ancora arrivati sono ancora stipendi è lo stipendio andiamo a Riccione per fare questo programma alla radio e io avevo il Vespino un giorno mi rollo sto cannone meraviglioso di marijuana fumi ancora? no 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 non ce la faccio zero? fumare ce la faccio e non ce la faccio il giorno dopo quindi no non fumo più neanche ogni tanto? no 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 con lockdown qualcosina ho fatto ma no mi fa molta fatica adesso e quindi vedete mi faccio sto cannone lo metto sotto la sela della Vespa parto per andare a fare le prove perché andava su Radio Rai ma andava anche sulla Rai su Rai 1 Cocco di Mamma si chiamava il programma condotto da Carlo Conti parto con la Vespa perdo la ruota dietro della Vespa si stacca la ruota dietro quindi cado lì sullo stradone mi spacco la gamba e la gente viene a soccorso di fortuna non c'era la macchina dietro io penso adesso i carabinieri mi trovano la canna sotto vanno in camera d'albergo dove c'avevo una vasca così praticamente c'avevo la piantagione senza gambe così arrivo lì prendo sta canna la sbriciolo la butto e crollo a terra perché la gente diceva lasciala lì la Vespa non ti preoccupare diceva no ma non è la Vespa niente con questa gamba rotta mi ritrovo in albergo tutto il giorno a non poter fare niente e lì ho iniziato a scrivere per dirti com'è per la prima volta per la prima volta siccome io abbiamo omesso che io dai 16-17 anni ho avuto proprio un amore spropositato per i libri ripeto anche un po' perché mi sentivo in defetto ma proprio un amore vero che non mi ha ancora abbandonato tanto che a un certo punto io leggevo così tanto che ho avuto desiderio di scrivere un libro perché non era nei miei progetti scrivere un libro quando io leggevo avevo dei quadernoni non il computer i quadernoni dove io scrivevo delle riflessioni delle cose che avevo non scrivevi sul libro su un quadernone quello lì a quadretti scrivevo le cose che mi avevano impressionato del libro o delle riflessioni quindi quando poi mi si è ingessata la gamba cosa scrivevi? una parola che non capivi? no 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 che ho letto questo libro un'ispirazione che ti aveva dato leggo questo libro che bello questo rapporto fra questi amici perché poi penso che alla fine l'amicizia cioè comincio a esprimere me stesso attraverso ma come li prendi gli appunti evidenzi cioè per ritrovarti quando rileggi? allora io ancora oggi non posso leggere senza la matita in mano io se non ho la matita non apro neanche il libro e quindi quando compro un libro in libreria se non ho la matita la devo comprare se no lo so che non lo apro il libro ma in quegli anni lì a fine libro scrivevo su un quadernone proprio con una penna scrivevo quindi con la gamba ingessata mi trovo questo quadernone un sacco di tempo il libro sai che c'è? metto insieme tutti questi pensieri e faccio il primo romanzo e così è nata la mia storia senza che nessuno ti chiedesse di scrivere un libro nel frattempo ti sei messo a scrivere tu un romanzo quando io poi l'ho finito che era un mashup di tutta la tua vita sì da quando ho iniziato a leggere diciamo 7-8 anni di appunti tant'è che il libro è andato così bene che la Mondadori mi disse devi scriverne un altro aspetta ma perché se bruciano la tappa lo scrivi per te e come fai a trovare l'editore? lo scrivo per me nel frattempo mentre inizio a scrivere questo libro con la gamba rotta ci chiamano per fare il provino delle iene e quindi io vado con la gamba rotta a fare le iene e ci prendono a te pelizzari a te pelizzari intanto è passato un anno due anni e io ho finito il mio libro io nel frattempo alle iene come sono arrivato alle iene è arrivato l'agente perché poi lì devi avere l'agente quindi arriva l'agente che è ancora tuttora il mio agente chi è? Beppe Caschetto stavo dicendo Claudio di Cecchetto e un giorno ha Beppe Caschetto senza che lui sapesse nulla ho detto questo è un libro che io ho scritto possiamo farne qualcosa lo buttiamo lui lo prende lo legge ride molto lo trova molto fresco originale lo legge tutto? gli agenti però ti dà un feedback lui mi chiama e mi dice no ma è una figata perché era molto come dire era molto fresco non aveva filtri non era scritto da uno scrittore era scritto da un non scrittore che poi è stata sempre la mia fortuna da un ragazzo normale? sì senza filtri senza niente senza struttura non è neanche un romanzo non è uscito con la scritta romanzo perché non è un romanzo perché in realtà è come se fosse una lettera che poi alla fine scopri che è una lettera a un amico e poi alla fine del libro scopri che lui la sta scrivendo a se stesso fra cinque anni esco a fare due passi esco a fare due passi lui prende tre pagine a caso chiama la Mondadori legge queste tre pagine al telefono alla Mondadori e loro dicono fighissimo mandacelo tutto e così ho pubblicato il primo libro quando la Mondadori mi ha detto fantastico avevo venduto il primo libro ho venduto tipo 70-80 mila copie che era una roba anche inaspettata tra l'altro attenzione io non volevo la mia faccia in copertina questa è stata la grande battaglia perché io dovrei dirti tante cose per farmi dei complimenti ma una su tutte è che io ho sempre detto no alle cose anche quando non avevo la forza per poterlo fare no alla pubblicità quando avevo bisogno di soldi perché non avevo formato la mia non si era capito ancora chi fossi non avevi un posizionamento artistico non volevo fare pubblicità finché non fosse chiaro quale fosse il mio percorso almeno per me e loro ovviamente la Mondadori cosa faceva con i comici di Zelig e così la faccia in copertina perché va in tv io facevo le iene quell'anno io quella cosa lì ho detto no sono due strade separate no ma allora noi non ci interessa sono tutta una trattativa così alla fine la copertina di Esco a fare due passi è un frigorifero con un post-it con scritto Esco a fare due passi come li convinci? li convinco che io dico così o no e il mio agente ovviamente è lì nel mezzo che dice cioè baciamoci i gomiti che ci stampano un libro e io dicevo no perché era dalla tua parte o era più no cercava una via di mezzo e lui che è molto bravo ha trovato la via di mezzo la copertina in questo frigorifero c'è una calamita e sulla calamita c'è la mia faccia quindi c'è il faccino così il secondo libro ci sono io di schiena il terzo libro c'è la mia faccia sulla quarta di copertina dal quarto libro io non ci sono più però io ho tenuto botta finché ho potuto con i primi tre dopodiché faccio io le copertine dei miei libri ancora oggi e non ci metto Mondadori è sempre la casa editrice con cui lavori non hai mai cambiato io mi trovo molto bene con loro loro si trovano bene con me e io ho vinto questa battaglia perché ero convinto quanti romanzi quanti libri li possiamo chiamare romanzi? sì io ho scritto in tutto undici undici libri e ho venduto più o meno otto milioni di libri che è incredibile ovviamente sì l'altro giorno ho detto in radio questa cosa perché uno per farsi un'idea perché uno dice le cifre se tu fai conto che quando io vado allo stadio a vedere il Milan siamo 80 mila l'idea che io tutte quelle persone che vedo allo stadio abbiano il mio libro in mano per cento stadi cioè non mi può più dire niente nessuno beh otto milioni è un numero incredibile anche perché appunto non è l'exploit oggi vendere le 70-80 mila copie del tuo primo libro è un numero già incredibile ti danno il minimo sindacale come anticipo nel primo libro della serie quella è la royalty quella è l'anticipo fattene andare bene poi vedi soldi veri al conguaglio raccontami il rapporto economico allora non mi ricordo ti dico la verità no aspetta col primo libro non mi ricordo quanti soldi mi hanno dato te lo dico sinceramente col primo e forse neanche col secondo quando io comincio ad avere coscienza dei soldi che arrivano a parte che prima era appunto non avere i problemi invece poi ho capito che potevo anche crearli problemi perché cominciamo ad arrivare i soldi veri arrivano quando io dalle Iene faccio MTV e poi quell'anno lì da MTV Iene MTV io passo alla 7 per un anno c'è stato un anno in cui la 7 quando è partita faceva dei contratti milionari a Fazio a me ma non c'era Cairo ancora no 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 mi sembra pagine gialle teleco non mi ricordo una roba una cosa strana però ti ricordi che dava fastidio al governo Berlusconi quindi fecero delle trattative strane insomma a un certo punto l'hanno dovuta soffocare questa televisione ma io avevo fatto quel contratto lì grazie a Roberto Giovalli ex direttore di Italia 1 che mi portò alla 7 e lì sono arrivati i soldi veri poi sono arrivati quei libri ma dopo quei libri nel senso che io il secondo libro ho venduto il doppio del primo libro il terzo libro ho venduto il doppio del secondo libro poi il successo dei miei libri perché allora per fare un bestseller anche oggi sono andato l'altro giorno a Dubai e c'era questo incontro con un poeta e si parlava di bestseller tu se finisci sul New York Times e ti dicono che è un figo quel libro lo vendi e fai il bestseller diciamo ma se il libro non è bello la volta dopo tu non ti fidi più del New York Times primo secondo il successo non è essere un bestseller il successo è essere un long seller quindi quando cercano magari di offendermi mi dicono tu vendi perché lavori in televisione o perché hai la radio è un'analisi veramente che non ha senso perché c'è gente molto più famosa di me che scrive libri tutti i miei undici romanzi sono long seller quindi vuol dire che chi l'ha letto l'ha consigliato a qualcun altro quindi lì dentro c'è qualcosa di cui io non ho coscienza che ha un valore perché è una storia unica comunque quindi io non la guarderei con pregiudizio invece la guarderei con interesse se fossi un altro il titolo che vende più copie in assoluto tra gli undici romanzi lì c'è stato un escalation 70.100 a un certo punto arrivo mi sembra un milione e due di un libro ma erano altri anni ovviamente il giorno in più e il tempo che vorrei sono quelli che hanno il giorno in più è una favola e il tempo che vorrei è il libro che io ho scritto per mio padre che mi ha riconciliato mio padre era ancora vivo mi chiamò tornando al discorso di prima mi chiamò al telefono quasi in lacrime io mi sono messo a piangere e lui mi disse ho letto il tuo libro ti volevo chiedere scusa e io papà ma no subito a difesa ma no papà è un romanzo è tutto inventato e lui grande in quel momento lui mi disse quello che non è vero lo vedo quello che è vero è vero quindi ti chiedo scusa io ancora adesso mi viene l'occhio luce se ci penso e noi dopo quel libro abbiamo avuto un riavvicinamento lento è stato molto interessante quindi per me è anche molto importante al di là del fatto del milione del milione e due e poi dopo l'editoria ovviamente poi arrivano i social le cose e i libri si vendono sempre meno fai conto che il libro più venduto in Italia l'anno scorso mettiamolo così era è stato non so tipo 210 mila copie ok posso chiederti il tuo più grande contratto per i libri a quanto ammonta a livello economico non vuoi dirlo dunque io faccio contratti milionari lo immagino però hai voglia di quantificare? proprio di dire la cifra esatta? no quello magari dopo però già aver detto sono a sei cifre torniamo indietro le iene sì quindi fai il provino per le iene perché io ho un'immagine di te delle iene nudo esatto quando tu vai dalla Marcuzzi e ti metti nudo penso che avessi soltanto i calzini e sei completamente nudo e lei è super in imbarazzo quello ti dà un po' lo switch quello è stato il servizio delle iene quello subito prima era stato un po' una specie di pre perché il servizio prima andai da schine degli scancanensi e in cambio di un bacio sulla bocca lei mi poteva rasare a zero i capelli quindi andai con la macchinetta io però avevo messo il pettinino a due centimetri e lei invece appena io mi sono piegato per farmi rasare l'ha tolto e quindi mi ha fatto solo la parte quella dove ancora oggi soffro questa qua quindi quando mi sono visto lo specchio comunque alla fine mi dà questo bacio poi a quel punto mi raso tutto e la settimana dopo sono andato nudo dalla Marcuzzi e lì sì c'è stato il grande pubblico come si dice e che succede dopo quel momento cioè nel senso il libro è sempre detto è una carriera a parte il libro è una carriera a parte e cresce lentamente diciamo poi fai conto un libro ogni due anni anzi forse fare televisione per assurdo c'era anche appunto il pregiudizio come tu hai detto prima magari eri preso meno sul serio guarda ci sono grandi personaggi televisivi che fanno i film e non fanno successo io ti posso dire per la mia esperienza che lavoro su settori diversi hanno proprio grammatiche diversi sono proprio mestieri diversi si assomigliano ma sono diversi poi per esempio chi dice che la televisione è la sorella della radio non è vero perché invece la radio e la letteratura sono sorelle sono molto più vicine no? perché se io dico la radio una casa in campagna con il tetto rosso e un cavallo bianco fuori tutto lo immagini e se tu lo leggi tutto lo immagini ma se lo guardi in televisione o al cinema è il regista che decide com'è la casa e com'è il cavallo e com'è la montagna quindi la magia del non vedere fa parte sia della radio che della letteratura io lì uso degli schemi più o meno simili e quando scrivo i film faccio un altro mestiere se scrivo un film per il cinema è un mestiere se lo scrivi per le piattaforme è un altro mestiere noi diciamo la mia generazione che andava nelle sale era importante che il finale del film fosse bello allora tu uscivi dicevi sai che è stato un bel film perché se il finale era brutto anche se prima era stato tutto bene adesso con le piattaforme è il contrario se non è bello i primi dieci secondi sei finito perché nessuno da casa ti aspetta fino a un'ora e venti quindi devi invertire il modo di scrivere ci sono altri tempi quindi non è detto che uno che sia bravo in tv sia bravo alla radio per esempio o al cinema e tu hai toccato tutti i segmenti la letteratura il cinema la televisione la radio a proposito di radio l'altro giorno smanettavo e ho visto un'intervista uno spezzo in una clip di Linus che diceva tipo dieci anni fa Fabio Volo ha un grande bisogno di attenzione cioè stava in quel momento spiegando come mai non stavate più lavorando insieme e lì mi è venuto da pensare come avrà vissuto Fabio il successo e te la faccio adesso la domanda il successo tu prima quando parlavi di tuo papà l'hai usato come un sinonimo di denaro quindi il successo equivale al guadagnare del denaro ma a livello di ego raccontami il successo nella tua personalità guarda io per un periodo della mia vita fino a tra l'altro fino a poco anni fa l'ho vissuto col marchio che mi ha passato mio padre cioè della vergogna quindi io ho quello che si dice la sindrome dell'impostore famosissima cioè io non mi sono sempre vergognato in qualche modo cioè l'ho vissuto sempre con pudore sono uno che se entra in una stanza con gente entravo in una stanza con gente nuova anche diciamo meno di successo cioè che magari ero io quello di successo io mi metto sotto comunque non mi metto mai sopra perché ho questa formamento comunque sono diventato diciamo conosciuto famoso che avevo già 30-31 anni quindi la personalità era fatta e la mia personalità era star sotto sono sempre stato sotto in relazione alle persone che avevano i soldi ma le persone che avevano la personalità le persone che avevano le cose che io non avevo i miei amici avevano il motorino e non ce l'avevo quindi io sono sono stato educato a stare sotto diciamo quindi arriva il successo e gli è un attimo che magari successo e non aver avuto i soldi è un attimo che sbando che spamparanzo diciamo così invece io ho sempre mantenuto devo dire una sorta di lucidità di lucidità però per un periodo non so magari succede a tutti a me è successo ci ho creduto ci ho creduto ci ho creduto di essere meglio cosa vuol dire crederci vogliere che ti senti migliore degli altri esatto c'è un momento e che tutto ti è dovuto no che tu pensi che sei veramente tu cioè io mi identificavo con ciò che facevo io ero Fabio Volo ero quello che che anche se mi metto sotto però comunque cioè entri in una stanza la gente si gira ti guarda e tu ci credi ci credi a quel punto lì ci credi e lì c'è la modestia sbagliata la modestia sbagliata che uno ti dice ti faccio questo esempio quando uno ti dice cazzo sei bravo ho letto il tuo libro mi è piaciuto tanto io dicevo ma no da figura cioè che è una specie di modestia per dire invece quella non è modestia invece sì a quanto pare sì però non sono io ecco io sono arrivato a questo punto adesso nella vita mentre in quegli anni lì i primi anni ci ho creduto ho creduto veramente di avere qualcosa in più rispetto ai miei amici ma come ti atteggiavi cioè come vivevi nel quotidiano quel flow del complimento è sempre imbarazzante ricevere un complimento bisogna saperlo gestire con un perfetto equilibrio per non sembrare presuntuoso o completamente disinteressato ho fatto tutto il percorso per arrivare a dove sono adesso adesso ti dico che sono veramente poche lo saranno sempre meno le cose che vengono da fuori che mi condizionano io sono sempre meno toccato da tutto ciò che mi accade fuori perché ho sviluppato delle capacità che prima non avevo ma per arrivare qui ho dovuto fare tutto il giro come Dante nella Divina Commedia sono andato dove ho visto tutte le cose sbagliate di me ecco quindi io cioè non avevo un atteggiamento sono quello famoso però dentro di me ce l'avevo non ce l'avevo con gli altri cioè non trattavo gli altri in maniera caffona però dentro di me comunque me la raccontavo che comunque non mi dovete rompere il cazzo ma che consapevolezza hai raggiunto oggi perché è come se tu ti guardassi io non mi identifico più né in Fabio Volo né in quello che faccio quindi sono in una buona posizione e sto lavorando in quella zona lì adesso della mia vita io non perché prima non eri più Fabio Bonetti eri solo Fabio Volo sì no ma anche come Fabio Bonetti cioè in realtà io adesso sono come dire un po' come distaccato da me stesso quindi vedo se parlassi di me in terza persona cioè io vedo la vita di Fabio e le sue cose però io non sono proprio dentro totalmente ecco emotivamente no ma anche in generale io interpreti dei ruoli ma non fanno parte della tua vita di tutti i giorni intendi cioè se uno mi dice sei un grande non ci credo e se uno mi dice sei un coglione non ci credo io sono alla ricerca di un qualcosa che trascende tutto compreso la mia vita quindi io quando sono lì faccio la mia meditazione faccio le mie introspezioni le mie cose mi vivo questa esperienza ma non non penso di essere meglio o peggio di un altro ecco sono qua dentro e quello che mi accade è tutta la reazione che io ho dentro verso le cose quindi io le cose fuori sono solo lì come delle prove per vedere come gestisco le cose dentro ecco io penso che esista solo quello che c'è dentro ecco per arrivare lì ogni tanto qualche sberla va presa nel senso mi racconti uno schiaffo morale che ti ha fatto abbassare un po' la cresta nella carriera avendo fatto tante cose no ci sono stati dei momenti difficili c'è stato un momento dove ti sei ridimensionato c'è stato un momento in cui io andavano benissimo i libri e questa è stata la cosa che mi hanno perdonato cioè che ha dato più fastidio di tutto perché il fatto che che ha creato più invidia intendi guarda io faccio la radio da 22 anni però nessuno mi ha mai detto niente anche se è un programma di successo nel senso che comunque in quell'ora lì è il più ascoltato ho fatto la tv andava bene il cinema è sempre andato bene però i libri ho proprio come dire come si dice a Brescia ho pisciato in chiesa ho toccato un totem e quindi andando lì e quindi andando lì a toccare il totem ho iniziato a subire una serie di attacchi che io sinceramente non pensavo di essere in guerra io mi chiudevo in casa a scrivere una storia poi se questa storia aveva il successo che aveva cioè nel senso io non ero in guerra non ero nemmeno a bussare a quelle porte degli intellettuali per dirvi sono uno di voi cioè io non ho mai bussato a quella porta non ho mai scritto per loro non mi sono mai interessato a loro e invece da loro subivo questi cioè ci tenevano a dire che non erano come me o io non ero come loro ma non era una mia battaglia quella lì non ce l'avevo dentro io ho un'estrazione diciamo popolare e lì sono rimasto non me la sono mai tirata come sono lo scrittore più venduto d'Italia quindi io sono lo scrittore no io essendo anche un lettore mi è chiara la proporzione tra ciò che scrivo e ciò che leggo mi stai raccontando un periodo ma raccontami un momento preciso un momento sai quando qualcosa ti ridimensiona e ti rimette in caraggiata no non ce l'ho proprio l'avvenimento credo che sia proprio stata una cosa mia personale non legata al lavoro ho delle ingiustizie in testa che mi vengono in mente mi fa molto ridere per esempio io qualche anno fa ho fatto una serie televisiva dove interpretavo me stesso e si chiama Un Traditional sono andato a bussare a tutte le chiese per fare questa serie dove interpretavo me stesso e tutti mi dicevano a noi di una serie documentario sulla tua vita non ci interessa e io spiegavo che è un genere che c'è in tutto il mondo da tanti anni io poi guardavo tanto le cose in America e ho spiegato chi l'ha inventata è una serie e poi dicevo non è che Casa Vianello loro veramente vivevano come vivevano in Casa Vianello e tu metti il nome su un oggetto ma dentro la scatola la riscrivi e quindi è cortocircuito che fa ridere cioè fa ridere vedere Max Pezzale che ha una fobia che nella vita non ce l'hanno e no perché la tua vita non ci interessa io comunque insisto la voglio fare ci credo fino in fondo e la faccio senza budget senza niente con una fatica infinita chiamando tutti gli amici che si potevano chiamare finisco sul canale 9 canale 9 e il canale 9 anche il canale 9 non ci crede perché dice cos'è sta roba che Fabio Volo fa a se stesso di quando parliamo? 4-5 anni fa quindi è recente ok persino il mio agente mi ha detto comunque sai una storia sulla tua vita io dicevo no allora vai in onda in traditional sul canale 9 vado a Rai 3 nel programma televisivo che si chiamava quello che parla di televisione il sabato pomeriggio tv talk tv talk bravissimo incontro il presentatore nel corridoio e mi dice cazzo comunque è bella egocentrica fare una serie su se stesso e io gli ho detto guarda tu fai il critico televisivo non la dire in onda questa cosa perché non fai bella figura perché tu che fai questo lavoro devi sapere cosa succede nel mondo e questo qui è un genere come esiste il giallo esiste il... lui pensa che io gliel'abbia detta perché non potevo sopportare l'idea di egocentrismo in onda quindi andiamo in onda e la dice e io ripeto e dico ragazzi è un genere che voi non conoscete ma che esiste il giorno dopo esce Aldo Grasso sul corriere e dice egocentrico narcisista di provincia Fabio Volo interpreta se stesso per raccontare ai critici televisivi com'è bella la sua vita quindi io subisco una serie di attacchi da gente ignorante nel senso che ignora che esiste un genere quindi io mi sento Galileo Galilei in quel momento io mi sento Galileo stacco l'anno dopo Bisio su Sky fa una serie dove interpreta se stesso insieme a Matano e Aldo Grasso scrive la serie non è bella ma complimenti a Bisio perché ci vuole coraggio a interpretare se stessi poi esce Carlo Verdone vita da Carlo grandissima idea fare una serie interpretando se stessi adesso la sta facendo Lillo di Lillo e Greg su Sky poi sono andato avanti insieme io quello l'ho subita l'ho subita perché io sono stato Galileo Galilei dopodiché sono arrivati tutti a dire che la terra emotivamente come vivi quei periodi lì emotivamente lì è stata una grande fortuna perché lì è stata l'ultima delle ingiustizie che io ho subito dopo gli anni dei libri delle cose dove ormai ero il nome sulla scatola ero il nome di un genere di una cosa che qualsiasi cosa potesse succedere io finivo nelle barzellette tutte le serie cose che secondo me io non mi meritavo l'ho partita e lì con questa cosa qui lì invece è stata proprio ripeto tutto ciò che accade fuori è lì solo come un'occasione io sono convinto che tutto ciò che mi accade nella vita è qui per me e non contro di me queste situazioni sono stati i miei maestri i maestri nella vita arrivano e non sono sempre dei guru indiani con la barba ma a volte sono una malattia una perdita importante delle ingiustizie io grazie a quella situazione che ora ringrazio così come ringrazio mio padre per come è stato ringrazio i debiti che ha avuto tutto quello che io pensavo fosse perché a me come si dice guardando io sono state la mia fortuna adesso io so che quella cosa lì sbagliavo io a fare le cose per avere il consenso degli altri o facevo io le cose per avere quello che si dice l'approvazione del padre che poi tutto tornava sempre lì non ho avuto l'approvazione del padre quindi quando Linus dice quella frase così non è quello è che io ho lavorato tanto per Radio DJ ma lui che è uno stitico nel senso proprio è difficile che ti faccia un complimento a livello di ok lui è uno che entra in una stanza e ti dice il programma più bello è il mio dopo il mio ci sei te la macchina più bella è la mia dopo la mia c'è la tua l'uomo più bello qua sono io dopo di me ci sei tu lui ha quella cosa lì ma non lo dico con cattiveria lo dico perché è il suo personaggio lo sa glielo ho anche detto quindi io non avevo l'approvazione del padre l'intelligenza mi massacrava per i libri quelli dalla televisione cercavo di fare cose anche innovative e mi massacravano però mi massacravano ma poi facevano le stesse cose che facevo io le faceva qualcun altro anni dopo ed erano degli eroi quindi per me questa ingiustizia mi riportava sempre alla mia infanzia e quindi grazie a questa pressione mi sono emancipato finalmente e quindi io faccio le cose che voglio fare e sono contento di farle perché io adesso faccio le cose che mi divertono non faccio le cose per dimostrare a quello lì che la so fare sono diventato il padre di me stesso poi diventando padre dei miei figli adesso io mi do la mia approvazione adesso arriviamo all'amore i figli che sono il frutto di questa cosa che è tutto però ti faccio una domanda prima tu hai veramente vissuto nel modo più amplificato possibile perché poi quando qualcosa diventa mainstream comincia ad avere molti più detrattori molte più persone che ovviamente criticano anche magari per partito preso senza neanche aver magari mai letto mai guardato quello che hai fatto nel cinema nella televisione nella letteratura nella radio hai fatto delle cose stra-importanti hai portato a casa dei grandi volumi hai appagato il fatto di poter andare in un negozio e non guardare il prezzo sul cartellino ti ha dato quella quiete quel balance comprai i tuoi nidi in giro per il mondo i tuoi rifugi i tuoi bunker i tuoi posti che ti ispirano oggi perché continui a lavorare qual è l'obiettivo di domani? beh questo adesso di fatti sono le due voci che ho in testa una che continuo a lavorare perché mi piace il mio lavoro tutte le sfere che in questo momento stai toccando la televisione per esempio l'ho abbandonata da anni devo dire ogni anno mi chiedono comunque qualcosa mi propongono delle cose ma così com'è sinceramente non c'è posto per quello che voglio fare io quindi non ho voglia di andare lì ho ricominciato adesso che i bambini sono un po' più grandi che avevo abbandonato perché io poi volevo anche fare il padre ovviamente non solo il genitore quindi ho abbandonato tv e cinema adesso il cinema ho ricominciato un po' a farlo lo faccio perché ancora mi piace però ho la grande chiamata del salutare tutti andare in campagna e dedicarmi totalmente a questo mio nuovo percorso diciamo non so se vogliamo chiamarlo spirituale però insomma per dedicarmi completamente a quella ricerca lì insomma che io ho sempre avuto da sempre anche da bambino poi l'ho dovuta un po' abbandonare adesso ovviamente mi ci dedico un po' di più e quindi ho la chiamata di dire salutiamo tutti vado in campagna e mi metto lì non hai paura di andare in crisi la noia il fatto di avere troppi tempi morti non credo io difficilmente mi annoio io posso arrivare in stazione c'è il treno dopo due ore io mi sto su una panchina come mia nonna e sto lì due ore e però poi dopo magari rischi di aspettare il treno per due anni no? nel senso bisogna vedere poi esatto quindi probabilmente se non sono ancora andato forse sotto c'è questo pensiero parliamo dell'amore ci abbiamo scherzato su quando cercavo di capire le tue radici abbiamo parlato del single che si divertiva l'hai detto Riccione quindi era tutto wow quando è che conosci l'amore il grande amore parliamo della madre dei tuoi figli l'hai citata anche tu prima dunque io a un certo punto a New York avevo questa mia amica italiana che era amica di Johanna vedo Johanna nelle fotografie di questa mia amica anno? dunque avevo 38 anni aiutami tu hai detto che siete in 72? 12 anni fa 12 anni fa vedo questa ragazza sulle fotografie mi piace chiedo alla mia amica di farmela incontrare tutto questo a New York e ci incontriamo una volta a un aperitivo mi piace subito ma mi piaceva già nelle foto non mi cagava molto la solita storia però l'approccio era divertiamoci e basta no l'approccio c'era qualcosa di diverso già nell'immagine della foto ma anche quando stavo lì con lei c'era qualcosa di diverso tant'è io per esempio non avevo mai convissuto non avevo mai avuto relazioni l'ho frequentata perché dopo abbiamo iniziato a uscire l'ho convinta a uscire a Cera insomma è stata una roba un po' lunga di qualche mese poi io sono tornato in Italia lei è venuta in Italia in vacanza lei è islandese lei è islandese è venuta in vacanza con la sua amica quindi non per me è venuta in Italia io ero in Puglia in quell'estate lei è venuta in Puglia le ho chiesto di rimanere si è fatta agosto con me e poi le ho chiesto di venire a vivere con me a Milano non vi eravate mai neanche baciati no no a New York sì ci siamo frequentati un po' così poi io sono partito poi sai quando tu parti che sei proprio all'inizio della sbocciatura alla distanza proprio di Bo ti fa esplodere ti fa esplodere l'amore e quando poi è arrivata io stavo bene con lei mi piaceva e le ho chiesto di venire a vivere a Milano è venuta a vivere a Milano e ho iniziato a convivere e poi ci siamo stati insieme un anno così lei lavorava? lei era un'insegnante della scuola originale di Pilates che non so se conosci ma è tutta una scuola c'è il Pilates quello delle palestre poi c'è il true Pilates quello vero del signor Pilates che è il cognome di quello che l'ha inventato e quindi lei ha fatto la scuola quella vera di Pilates che è una cosa super esclusiva e quindi faceva qualche lezione di Pilates in uno studio qui a Milano e poi dopo è rimasta incinta poi i figli poi il secondo figlio era il tuo desiderio avere dei figli? a me mi è sempre interessata la paternità cioè comunque è una cosa che non ho evitato perché io volevo capire rispetto alle tue relazioni precedenti dove avevi già nella mente per esempio anch'io amavo essere fare i cazzi miei e poi quando ho conosciuto mia moglie ero fidanzato con un'altra ragazza però mi ha dato così tanto filo da torcere che lì ho sentito quasi sin dal giorno 1 che ti piaceva quella cosa lì non so se quella cosa lì ma quella donna con questi attributi giganteschi che sapeva che hai le tue frasi che funzionano e con lei non funzionano hai i tuoi trick e con lei non funzionano e tu dici orca tra non entra questa qua del piccione che ho sempre piaciuto alla colomba che vola non entra non vola la colomba una volta uno però mi ha detto ma sì sarai anche stufato di tutte queste donne e sinceramente no nel senso che secondo me non è che io mi fossi stancato delle donne perché per me uscire con una che non conosci la conosci poi mi immagino chissà com'è fare l'amore con sta donna chissà com'è farsi un weekend con sta donna c'è tutto quella cosa che non conosco quella persona lì a me proprio mi cattura perché io sono così nella vita la mia fortuna è la curiosità quindi appena io c'è un qualcosa che posso imparare che posso conoscere mi seduce tantissimo non ti stanchi delle donne diverse ti stanchi di te stesso almeno io mi ero stancato di me con le donne perché loro erano diverse ma io ero sempre uguale alla fine sempre con quella battuta con quella cosa so che funziona così so che funziona così poi se fai l'amore so che piace così quella lì gli piace così cioè cominci ad avere una conoscenza sulla materia che poi tu ti muovi e diventa mestiere e invece con lei era proprio un'altra cosa e quindi con lei non potevo essere quello che ero con tutte le altre con cui ero stato e quindi mi incuriosiva anche quella cosa lì mi ha affascinato e poi sai tu puoi fare l'elenco infinito delle cose che ti piacciono di una persona ma perché ti innamori è una domanda insondabile perché lei sì e l'altra no quello è quella alchimia quello è è Dio diciamo io penso che potrei parlare di libri e di Dio per sette ore però sull'amore quando ti ho chiesto di tua moglie in sette secondi più o meno avevi riassunto e rirrivati in fondo allora volevo capire nel senso sei arrabbiato stai soffrendo perché è finita questa storia un anno fa tre circa tre poi ufficiale ufficiale non l'abbiamo mai detto nessuno ma si capiva però non abbiamo fatto dichiarazioni diciamo da tre anni più o meno quindi durate dieci anni circa avete fatto due bambini abbiamo fatto due bambini non abbiamo mai avuto grandi discussioni i miei figli non mi hanno mai visto litigare con la madre che era una cosa che a me importava molto e anche con lei questo dopo o durante? no anche durante e anche dopo io quest'estate ho fatto un mese con lei e i bambini in Amazzonia vivendo con gli indigeni quindi non in situazioni proprio così facili non c'era niente neanche la televisione non c'era il telefono siamo adesso andati dieci giorni a New York tutti insieme è venuta a casa mia ieri a pranzo per parlare dei bambini delle cose ma quando siete andati in vacanza insieme come dormivate? noi se ci sono due letti dormiamo in due letti io con un bambino leggo l'altro se c'è un letto dormiamo in un letto non è un problema non ti mette a disagio? no io io almeno per me no io non ho questo disagio non ho la rabbia nei suoi confronti non ho i rancori né nei suoi confronti né nei miei perché sai a volte uno mai si colpevolizza ho il dispiacere quello sì e quello secondo me me lo porterò tutta la vita non ho un pensiero di dire fra dieci anni non mi dispiacerà più per me quello sarà un dispiacere per tutta la vita quello lo so e dici quali sono le sue qualità più belle? ma lei adesso qua Freud potrebbe scatenarsi però lei come mia madre vive in una bolla vive in una bolla è un mondo quando l'ho incontrato dicevo tra un angelo e un essere umano c'è un anello e sei tu questo mezzo angelo mezzo uomo lei è sì una fatina è come se fosse una fatina mi piace molto perché è una donna islandese molto forte ha superato delle cose difficilissime nella vita che io non so se sarei stato in grado di superare quindi ho coscienza nel senso che lo so è una donna molto forte però è anche molto ama l'avventura è una che mi trascina e mi ha trascinato a fare cose che io non avrei mai fatto ha questa forza ha questa forza di trascinarti nelle cose non perché ti deve convincere ma perché tu la vedi nei suoi occhi quella cosa che è bella e quindi tu ne sei sedotto e dici cazzo se è successo così a lei mi ci butto anch'io ha tantissime qualità è una mamma straordinaria secondo me e poi ha avuto la pazienza di stare dieci anni con me rispetto alla pazienza è quello che tu dici intanto è molto bello che per l'equilibrio e l'educazione dei vostri figli siate coesi siate così uniti in modo tale da non creare loro dei traumi perché non hanno chiesto di venire al mondo quindi la trovo una cosa un bellissimo esempio da seguire quando dicevi mettersi in discussione o altro ti volevo dire una cosa su di me tre anni fa sono andato da una persona che mi conosce molto bene ed è il mio socio in affari che ha potuto osservarmi molto sia a livello personale nel lavoro che a livello professionale quindi è uno spettatore che ha molte informazioni e un giorno gli ho detto ti posso fare una domanda e gli ho chiesto in cosa secondo te sono bravo e dove invece sono l'esatto opposto può sembrare una domanda molto imbarazzante per qualcuno che ti deve dare questa risposta perché forse ha paura di offenderti e forse è stato il momento che mi ha dato il mindset più grande della mia vita e lui ha cominciato dalle cose belle e la prima che mi ha detto è guarda tu quando parli con le persone quando ti piace una cosa sei estremamente ipnotico e uno starebbe ora ad ascoltarti me ne ha dette altre la notte vado a letto il giorno dopo mi dicono da quando ho 13 anni che ho una bella voce ma io so che la voce si usa per cantare faccio cagare e dico cazzo c'è il podcast e grazie a un suo spunto una sua analisi dico faccio un podcast e così via per tutte le cose che mi ha detto lui mi ha illuminato quando mi ha detto queste cose mi ha messo davanti una verità talmente trasparente cruda che mi ha dato tantissimo nel mio mindset visto che tu lavori molto su te stesso la meditazione gli sciamani cioè fai un grande percorso introspettivo addirittura vorresti che diventasse vita per te sei in grado di dirmi quali sono le tue qualità e i tuoi difetti osti le qualità sono sicuramente la determinazione sono molto determinato nelle cose quell'essere ossessivi compulsivi senza misure diciamo io non sono mai stato uno da mezze misure o vai in all in o non giochi la partita sì 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 non mi metto mai a fare le cose a metà diciamo sono determinato prova a togliere gli aggettivi e spiegarmelo in modo più dialogico quindi in modo più colloquiale cioè fammi proprio un esempio dunque se sento che una cosa la desidero fortemente trovo le extra forze per raggiungere quell'obiettivo e sono determinato cioè non mi viene il dubbio vado un grande talento che ho è l'empatia in qualsiasi situazione io vado riesco a entrare in empatia con l'ambiente e con le persone e poi un'altra qualità estetica non la dico lo vedono tutti che sono molto bello no lo pensi di te di essere bello non ho seriamente no 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 onestamente non lo pensi non ti trovi bello no no ok quindi ci scherzi su perché sei insicuro no insicuro secondo me non sono brutto ma non sono bello non sono uno che uno mazza che bello che è Fabio che non penso che lo dicano magari non dicono neanche che è cesso sono quella roba lì che non ha senso diciamo non sono né alto non sono né basso non sono magro non sono grasso sono un po' quella roba lì e stavo pensando un altro complimento c'è un altro dunque cos'è che ho detto determinato empatico e è bello in modo sarcastico dici tu voglio dire no oh non me ne viene un'altra andiamo su l'altra colonna i difetti i difetti dunque difetti sai che non mi conosco così bene però forse per esempio parlavi di tua moglie no immagino che ti abbia detto delle cose quando avete come dire deciso di fare un percorso diverso ti riconosci nelle cose che ti ha detto o nelle critiche a volte che magari ti fanno le persone c'è della verità che magari ti hanno dato consapevolezza di un titolo di una cosa su cui puoi lavorare o no sì 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 ad esempio sì no io tra i difetti sicuramente metto che mi fido molto delle mie impressioni mi fido molto delle mie impressioni su di me e sugli altri sulle situazioni beh questa è una qualità no è un difetto ti dà il timone no è questo un difetto perché poi lei ti dice che sei un'altra cosa e magari c'ha ragione lei ma io non ci credo io rimango convinto della mia cosa non ti metti mai in discussione a quel punto di vista no mi metto in discussione però siccome mi metto così tanto in discussione che quando poi io ho formulato la mia tesi è difficile che io io sono ossessivo anche in quello per esempio io sono uno che se devo fare un cambiamento importante nella vita lo analizzo sotto tutti i punti di vista chiedendo anche consiglio solo con te stesso intanto parto da solo dietro il divano da solo ed è tutta una roba così calcolo tutte le cose peggiori che possono succedere cioè è una cosa che ci metto così tanto è uno per esempio dei motivi di scontro diciamo tra me e la madre dei miei figli perché lei è una che salta fuori adesso non so la California lei dice andiamo a vivere in California lei domani è già in California io per andare in California ci metto un anno perché devo sapere dove cosa faccio quanti siamo dove viviamo quanto guadagniamo il salto nel buio lo faccio alla fine e quindi questo per esempio è un difetto sia di essere troppo ponderato nelle tue scelte no quello che mi fido di più del mio istinto è di qualsiasi altra persona che me ne parli diciamo e che io come dire mi interesso di più di quello che penso che di quello che sento e quindi questo è un grandissimo limite perché è quasi sempre più importante quello che senti nella vita però quello che senti ci vuole tanto coraggio invece quello che pensi ti dà l'idea che la cosa è chiara perché comunque decodificare un sentimento è sempre più complesso quindi diciamo sono troppo calcolatore per fare qualsiasi cosa e poi altri difetti sono anche fuori dalle luci sono anche molto noioso devo essere sincero cioè io alle 10 vado a dormire la sera non voglio di far festa ho tutto quel bagaglio lì che ho imparato quando come abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata ho quel bagaglio lì io nasco da una famiglia dove non si festeggia quindi io non so godermi le cose e quindi io sto a casa io un giorno mi ha chiamato il mio responsabile della Mondadori e mi disse che in una settimana avevo venduto una quantità di libri che non era mai successo nella storia dell'editoria italiana e la mia risposta è stata adesso che cazzo scrivo col prossimo per dirti non ho avuto neanche il momento di dove te lo seguo come tuo padre dove non sei goduto dirmi un attimo e dire ho vinto perché io appena mi arriva un successo mi viene l'ansia di cosa faccio qual è la successiva esatto e quindi adesso come ti dicevo prima sto lavorando proprio sul distacco da queste cose sei interessato agli altri? intendo siamo sempre molto concentrati su noi stessi nella vita tu sei interessato al prossimo quando una persona ti parla e ti racconta le sue cose ti interessa o di base mai no mi interessano molto le persone nel senso che mi incuriosiscono non tutte quelle che fanno nascere in me una sorta di curiosità che non dipende da me e poi io sono ovviamente avendo 50 anni avendo anche appunto una serie di fortune sono nella famosa terza fase della vita nel senso che io la prima fase l'ho dedicata a una mia indipendenza emotiva ed economica poi mi sono occupato appunto della realizzazione diciamo del mio essere di ciò che sono e del mio nucleo familiare adesso mi piace dedicarmi a persone che non conosco ecco cioè aiutare persone che non conosco questo mi interessa nel senso aiutare non perché poi mi dicano grazie voglio aiutare persone che non sanno neanche che sono stato io ad aiutarle in modo disinteressato se non mi interessa il loro feedback mi interessa fare questo gesto ecco nel senso che tu ti senti un ragazzo fortunato e tu vuoi restituire alla vita questa fortuna facendo quello che mi hai appena detto in questo momento senti sì 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 credo che sia la cosa cioè sia il mio prossimo percorso diciamo finché resto in vita il mio atteggiamento sarà questo quello di di dare ma di dare soprattutto proprio a persone con cui non ho nessun tipo di relazione ecco prima dell'ultima domanda ti faccio un po' mi dispiace lo sai che è l'ultima domanda nella corona dei difetti ti vorrei chiedere se c'è un difetto dove daresti soddisfazione a molte persone che ti hanno attribuito quella cosa e il fatto che tu la possa realmente riconoscere forse potrebbe essere un processo nel quale sei maturato moltissimo c'è una cosa in quella colonna che tu puoi aggiungere perché sì mi hai detto delle cose importanti ti riguardano quindi ognuna di quelle ha un grandissimo valore però non t'ho sentito fare la dichiarazione dove per la prima volta te lo riconosci e ti liberi esattamente come stavamo parlando ai nostri padri rispetto a quel peso emotivo dunque sto pensando ai miei amici ho così un distacco con gli altri anche con i miei amici che non riesco a trovare la risposta subito non rispondo al telefono per esempio non rispondo ai messaggi non sono raggiungibile quando lo vogliono gli altri ma sono raggiungibile solo quando lo voglio io per esempio quindi ecco se fossi più disponibile più io sono sfuggente ecco io sono sfuggente e quindi se fossi meno sfuggente più presente secondo me farei felice molto più persone esatto sì ti faccio l'ultima domanda ti voglio chiedere se hai paura della morte no ho paura della sofferenza quello sicuro e ho paura di non paura mi dispiacerebbe morire ma prima perché mi piaceva tanto la vita adesso perché mi piace la vita ma perché i miei figli secondo me sono ancora piccoli non lo so quando sono arrivati i figli la mia paura di volare in aereo che prima non avevo adesso un po' ogni tanto mi viene il pensiero è sempre rivolta a loro però no cioè non ho la paura di oddio muoio mi spaventa la sofferenza come ti dicevo e mi piacerebbe lasciare questo pianeta concludendo le mie cose almeno con i miei figli ecco siccome ho lasciato le cose a metà con mio padre le vorrei almeno per una volta chiudere perché tornando al discorso di mio padre io ho avuto diciamo tante soddisfazioni nella vita però io non provero mai l'emozione di vedere mio padre giocare con i miei figli e io per esempio darei tantissime delle cose che ho e che ho guadagnato nella vita in cambio di un pomeriggio dove io vado a Brescia da mia mamma con mio padre e vedere mio padre che ha una cantina con tipo 300 macchinine era un bambino mio padre alla fine giocava e quindi era perfetto questa cosa e io quella cosa lì non apprezzo e allora dico bisogna che ai miei figli io vorrei passargli mio padre che non hanno avuto questa fortuna e se dovessi morire ovviamente sono morto e questo pensiero non c'è più però visto da fuori vorrei chiudere questo cerchio dopodiché non ho problemi ad andarmene ecco grazie Fabio io non vorrei andare via è finito grazie grazie a voi grazie grazie ciao grazie a tutti Grazie a tutti